I numeri di quest'anno, siamo alla 27esima edizione dell'Artigiani in Fiera con onore, come sempre i sardi a testa alta, questa è un'edizione che porterà oltre il milione di presenze in una fiera che è la più importante al mondo per questo settore, la Sardegna è presente con oltre 1118 metri quadri solo per gli artigiani, dei 4.500 globali, poi c'è l'agroalimentare che si completa con la mia collega Valeria Assata, l'assessore dell'agricoltura. Gli artigiani sono 37, non sono pochi, abbiamo 800 metri quadri e più dedicati a loro, poi abbiamo l'area istituzionale, abbiamo l'area dove faremo le convenze di Sama, dove i nostri gruppi folchi, pensate, oltre 160 persone venute da Sardegna in questi dieci giorni presenteranno suoni e tradizioni, canti e balli. È presente anche il padiglione di lauree per promuovere anche i vini con dei sommelier che raccontano la storia dei nostri vini e quindi poi show cooking, arte, manifestazione e anche l'assessorato al turismo, chiaramente che partecipa insieme all'assessorato all'agricoltura per fare da cornicio la nostra meravigliosa terra.